Conosco i segreti dei Kinko. Conosco gli stili della pioggia, del fulmine e delle nuvole. La potenza di fuoco risolve tutto. La tua tecnica è carente di tecnica. Ho studiato il respiro impeccabile. Vento. Ciò che forma non ha... ...tolpisce da angoli inaspettati. Watch out! Questa è la tempesta! Sono in posizione! Vendicherò il mio studente! Equilibrio in tutte le cose. Ce la possiamo fare! Servono sempre braccia in più. Ora vedrai la mia mossa finale! Vento e tuoni! Pioggia e fulmini! Quagia! Mio discepolo, che tecnica userai? E la pilli della desolazione. Questa è la tempesta! Servo i Kinko. Non potevano vincere. Questa è il mioletter. Capitoli. Grazie a tutti.